Io sto con Angela e Paolo, accanto alla nuova infamante scritta razzista, sono comparsi queste attestate di solidarietà nei confronti dei coniugi Pozzi, i genitori adottivi di Bacarì, giovane originario del Senegal e è giunto in Italia quattro anni fa su un barcone. Un gesto che racconta l'incredulità di una comunità che condanna l'episodio a pochi giorni dalle prime scritte razziste. Senza parole, riguardo a questo, senza parole veramente? No, non è sicuramente questa, fortunatamente non è questa e spero che non lo diventi mai. Non ho mai incontrato nessuna forma di razzismo, vivo qui da vent'anni, mi trovo bene, mai ho avuto problemi con nessuno, sono un pochino sbalordita si può dire. Penso sia una cosa che è inaccettabile, soprattutto fatta a questa famiglia che comunque per tutta la vita si è dedicata alle persone più deboli e più in difficoltà. Anch'io sono meravigliato perché la Meleniano che conosco è una Meleniano solidale, voglio deprecare con questo avvenimento che è completamente negativo. E poi dall'altra parte vorrei che questo avvenimento fosse per noi adulti un'occasione per fare un passaggio educativo con i ragazzi nel riaffermare la dignità di ogni persona. Per chi è educatore, genitore, insegnante, ecco, cogliere questa occasione negativa per vivere un momento proprio di educazione all'umanità. Sabato pomeriggio in molti parteciperanno alla manifestazione antirazzista decisa dal sindaco di Meleniano, proprio per esprimere la vicinanza della città alla famiglia Pozzi e a Baccarì.